Care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan che trasmette dal vivo dopo tanto tempo. È passato più di un mese dall'ultima volta che ho radiotrasmesso dal vivo. Oggi sono entrato nel mio canale di Spreaker Sant'Enchan dal personal computer. E ho visto che già dall'anno scorso avevano ridotto il tempo di registrazione dai 30 minuti ai 15 minuti, gli attuali 15 minuti. E adesso abbiamo non 10 ore, un massimo di 10 ore da registrare, ma dopo tanto tempo che non controllavo, mi sono reso conto che le ore massime di registrazione per i canali gratuiti come i miei, che io sono disoccupato, non mi posso permettere di pagare un abbonamento, neanche il basico. È di 5 ore, speriamo che non riducano di più. Comunque peccato che ho cancellato molti episodi e mi sono reso conto tardi, perché erano episodi che avevano decine di migliaia di ascolti che comunque ti danno l'opportunità di sostituire una pista audio per un'altra. Invece di cancellare gli episodi, d'ora in poi cercherò, quando non trasmetterò live, di sostituire le piste audio. Quelle più vecchie, con più ascolti, le sostituirò con nuove piste audio. Comunque, ormai da più di una settimana che non faccio video per YouTube e dovrò provvedere. Come dire, per me Sprecher mi fa venire in mente i primi episodi che ho registrato nel 2013. Da tutta la vita avrei voluto essere un radio amatore e con Sprecher, soprattutto in questo cellulare che ho, è bellissimo. Pensate che io l'ho iniziato ad utilizzare nel 2013, quando c'era la versione arancione, con il Samsung Galaxy Young 5360. Ed adesso mi ritrovo con questo Motorola Moto X seconda generazione del 2014 che c'ha Marshmallow, quindi è fantastico. Il rendimento è favoloso. Sembra di avere la stessa applicazione per personal computer. Peccato che hanno ridotto il numero di ore disponibili da 10 a 5 e quindi bisogna cancellare più episodi e hanno anche ridotto il tempo minimo di registrazione sia dal cellulare che dal computer. Prima era un'ora dal computer e 30 minuti dal cellulare. Anzi, all'inizio era un'ora anche dal cellulare. Certo, già con 30 minuti di cose da dire ne avevo. Ma adesso faccio questa scoperta qua. Comunque, ho utilizzato poco, debbo confessarlo, Sprecher, negli ultimi due anni ed è per quello che sono passato da avere 900-800 iscritti e adesso finalmente 599. Devo recuperare i miei iscritti, come ho sempre fatto, facendo trasmissioni. E poi, niente, che le cose che stanno succedendo in Italia mi travolgono, mi sconvolgono. Ne viviamo delle belle ogni giorno. Per questo, io cerco di condividere i miei pensieri con tutte e tutti voi, oh amici. E poi, non vi scordate che io tutti gli episodi che ho sempre cancellato li ho salvati nel mio canale di YouTube Radio Sant'Encian che ho creato quel canale di YouTube apposta per poter salvare gli episodi di Sprecher. Perché prima me li salvava nel mio canale principale di YouTube Sant'Encian però non volevo fare confusione poi non a tutti interessava ascoltare Sprecher allora così gli ho fatto un canale speciale. Se voi non trovate qualche episodio mio di Sprecher o se volete cercare per vecchi episodi che ho cancellato che ho fatto già dal 2013 cercate Sprecher o nel mio canale Sant'Encian di cui trovate il link in questa radiostazione oppure cercate Sprecher nel mio canale Radio Sant'Encian che trovate il link del mio secondo canale di YouTube nel mio primo canale e viceversa. Sono successe tante cose il mio amico Alessandro Arcangeli mi ha detto che hanno denunciato Andrè Di Pre e la cosa non mi sembra strana perché già grazie ad Andrè Di Pre avevano denunciato e forse arrestato incarcelato a Giuseppe Simone anche a Matteo Montesi Andrè Di Pre spinge sempre il limite più in alto di quelle cose che fa parla di droghe parla di sesso e adesso avrebbe utilizzato in un suo remix di Preiano catafrato e sibaratico i video di gastronomia a Casareccia i video tutorial di una persona che non si presta al gioco di far parte dei suoi show e lo avrebbe denunciato lui come avvocato sa che ha fatto qualcosa che non andava fatta allora si è sfuriato in un video ha insultato selvaggiamente la cuoca che lo ha denunciato ma questo non fa che peggiorare la sua situazione allora come dire è mezzanotte e quindi è tardi io credo che quasi nessuno mi segua dal vivo a quest'ora per questo questo sarà uno degli spettacoli che cancellerò per primi mi è ancora rimasto in mente mi ha molto colpito l'episodio della youtuber iraniana infatti volevo usare come immagine di questo show la sua foto poi sarà per un'altra volta perché adesso non riesco a trovare il foglietto dove ho scritto il suo nome mi ci sono soffiato il naso la youtuber iraniana di origine iraniana perché è andata a vivere negli Stati Uniti che aveva nove anni e ai 39 anni ha fatto quello che ha fatto Nassim Nassim Shera Shera aspettate un momento tanto ho ancora del tempo Nassim Saps che in realtà si chiamava Nassim Naya Nayafi Agdam Nassim Nayafi Agdam in arte Nassim Saps mi ha molto colpito come youtube già ha suscitato le proteste di mezzo mondo forse molto più di quello che dovrebbe anche suscitare Spreaker con i suoi tagli di ore e tutto il resto e di minuti di trasmissione però youtube è molto più seguito infatti il mio amico Claudio Wolf si è lamentato in un programma di youtube di come youtube arbitrariamente ti cancelli le visualizzazioni di ogni video i like di ogni video i commentari nei video e anche le visualizzazioni del canale e poi magari ti doveva pagare come mi è successo a me i primi due anni in youtube 80-90 dollari e rinizi da zero magicamente a me dopo 4 anni mi hanno dato 150 dollari e magari mi dovevano dare molto di più e poi quanto youtube guadagna se a te ti dà 150 dollari e adesso ti mettono il limite delle 4000 ore di visuals all'anno è assurdo ecco la maggior parte delle persone sensate non reagiamo come Nassif Subs però lei questa youtuber di origine iraniana naturalizzata nordamericana che ha sparato nella sede centrale di youtube aveva evidentemente delle alterazioni psicologiche e poi era una vegana fanaticamente convinta che i suoi video servissero a diffondere una giusta causa quindi lei era una miscela esplosiva di componenti psicologiche ed ideologiche che hanno fatto sì che il torto che ha sentito soffrire da parte di youtube fosse intollerabile e youtube con le sue politiche rischia che ogni persona instabile mentalmente che vede diminuire i suoi guadagni che gli vede che si vede trussottrarre la monetizzazione che si vede togliere iscrizioni del canale o annullarle togliere il like a ogni video togliere visualizzazioni a ogni video beh se ci sono delle persone inestabili come Nassim Sabs la iraniana della sparatoria nella sede centrale di youtube questo porterà a che i casi si moltiplichino perché non tutti sono sani di mente allora se soffrono un torto poi se la prendono con terze persone che non hanno nulla che vedere perché gli impiegati che facevano colazione in quella caffetteria non avevano nulla da vedere con le politiche di youtube sui diritti d'autore io non so voi che ne pensate se volete commentate questa mia trasmissione e le altre prima che le cancelli oppure se siete interessati a commentare delle mie trasmissioni di sprecher che ho fatto nel passato cercate i miei programmi tanto nel mio canale principale di youtube santenchan di cui trovate il link qua in descrizione nel mio canale di sprecher come nel mio secondo canale di youtube radio santenchan lì troverete molti episodi che ho salvato dovendo cancellare dal mio canale di sprecher i programmi che avevo fatto anche quando c'era un limite di dieci ore perché io facevo episodi di mezz'ora al cellulare e di un'ora nel computer adesso non so quanto si può registrare dal computer vocalmente parlando ma dal cellulare 15 minuti adesso mi mancano due minuti quindi come dire avevo un po' di tempo per fare questo radioprogramma e ne ho approfittato per stare vicino a tutte e tutti voi ieri o l'altro ieri l'ho caricato in differita perché avevo dei problemi al wifi ma adesso che posso caricare cioè che posso fare un live che mi funziona il wifi lo faccio senza nessun problema quindi mi raccomando visto che sono disoccupato se vi può interessare guardare i miei video nel mio canale di youtube san ten chan e poi se avete occasione di commentare i video per farmi sapere quello che pensate e di condividerli mi farete un grandissimo favore perché veramente ho bisogno di superare le 4000 ore di visualizzazioni all'anno e non so come fare poi ultimamente posso fare pochi video quindi vi ringrazio di tutto l'appoggio che mi potete dare fin da adesso e mi raccomando invitate gente ad iscriversi al mio canale di youtube iscrivetevi al mio canale di youtube condividete i video vi aspetto cordialmente vi saluto il vostro san ten chan e da un'altra e da ad un'altra trasmissione radiotrasmissione di sprecher adesso vi saluto se no inizia a registrare un altro episodio ciao ciao grazie per avermi seguito anche in questo episodio e fate iscrivetevi ai vostri amici anche in questo canale di sprecher mi raccomando ciao